decisivo per le sue ambizioni di playoff. Di fronte le turbulenze in casa Catania, pronto a rispondere sul campo a una settimana travagliata. E voi siete pronti a godervi lo spettacolo dallo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Buono il lavoro del numero 17 che la mette in mezzo per Andrade, anzi all'indietro. Il pallone arriva per... Ma torniamo in cronaca perché attacca il Monopoli. Buono il lavoro di Carriero che si gira col destro! All'improvviso! Giuseppe Carriero fa esplodere il Veneziani da 25... Calapai, cross in mezzo al numero 26 sul secondo palo, arriva dall'altra parte Pinto. Tutto buono perché non è di rigore, c'è subito il pareggio del Catania. L'arbitro non fischia fallo e dunque Mazzarani al 19 e in tre minuti ricambia nuovamente il punteggio al Veneziani. Usate, recupera il pallone, ancora l'Albanese, poi Giorno, prova la conclusione col Mancino! Affel di palo! Non i 4-3-3, mentre dobbiamo tornare in cronaca perché Fell aggancia un ottimo pallone, prova a girarla col destro, Tazzer non ci arriva, buono il lavoro di Piccini! Mazzarani che scheggia la traversa con il suo tiro cross. In mezzo per Mazzarani, da lontano Mazzarani! Pallone che prende troppo l'esterno, dunque non riesce a colpire... Ora Andrade, prova a girarsi, conclusione col destro! Respige a Furlan, attenzione Tazzer, sombrero! Fuori! Ma c'era fuori gioco? Parte il 17, pallone e mezzo! Di piazza anticipa l'uscita di Furlan e dunque ci sarà il secondo calcio d'angolo del... Progetto Catania, così come Giuseppe Fornito, mentre non riesce a agganciare un gran cross dalle retrovie Fell All'altra parte una sola sostituzione per Camplone, che è una panchina cortissima mentre ritorniamo in cronaca perché c'è il clamoroso autogol del Monopoli con il Catania che passa in vantaggio all'improvviso, festeggia la panchina etnea con Mazzarani e i tifosi del Catania E c'è il gol, il pareggio del Monopoli su un calcio d'angolo pennellato la palla finisce nell'area piccola e non riesce a far nulla, in questo caso Furlan classe 97 Ora Monopoli in avanti con la rete del 3 a 2, grandissima incursione la parte di Giuseppe Fella che stende ancora una volta Furlan Monopoli insaziabile Giorno, scucchiai e mezzo, Tazzer si leva Cuppone, miracolo Tazzer prova la respinta pallone difficile che tiene però Donnarumma attenzione a Cuppone in mezzo Donnarumma vediamo se riesce a mettere in mezzo grande la finta Donnarumma, in trenera Donnarumma con Furlan che non riesce a respingere azione stratosferica di Daniele Donnarumma che vede una prateria nella difesa del Catania al minuto numero 4 precedenti che diventano 11 4 a 2 con il triplice fischio finale Lodi un po' nervoso con Pecorini Piccini mette a sedare una semipolemica bellissimo match